Anche se la stagione fredda stenta ad arrivare anche in Abruzzo a partire da oggi 15 novembre fino al 15 di aprile, scatta l'obbligo di montare le gomme invernali o quattro stagioni sulle strade dove è in vigore la relativa ordinanza. Una misura prevista dal codice della strada non solo in presenza di neve. Con freddo, pioggia e gelo infatti l'aderenza diminuisce e le coperture stire vanno in crisi. Avere pneumatici invernali diventa quindi di fondamentale importanza per la sicurezza e mette a riparo dalle sanzioni previste in caso di mancata osservanza delle prescrizioni. In alternativa occorre avere a bordo le catene da neve da montare in caso di necessità o dietroindicazione delle forze dell'ordine. Montare le gomme invernali è fortemente consigliato un fattore di maggiore sicurezza che garantisce una presa migliore sulla strada, anche se non innevata vista la maggiore aderenza su asfalto molto freddo oppure bagnato dalla pioggia. Come capire quali gomme monta il proprio veicolo? Ovviamente dalle sigle riportate sul fianco dello pneumatico. Quelli invernali recano la sigla M più S Mud Snow, che in inglese vuol dire fango e neve. Inoltre è presente anche il simbolo stilizzato di una montagna e di un fiocco di neve. La particolarità delle gomme termiche è la mescola di silice con cui sono prodotte, che si scalda rotolando il battistrada lamellare. Più la gomma è calda su un manto freddo, più si mantiene flessibile e aderente alla strada, grazie alle lamelle di gomma che si comportano come degli artigli. Con queste caratteristiche la gomma è efficace anche sulla neve, tanto da essere sentata dall'obbligo di montare le catene, a meno di non trovarsi in condizioni di abbondanti nevicate. In ogni caso è bene sapere che guidare senza gomme invernali o catene o calze da neve a bordo, quando c'è l'obbligo, ci si espone a una multa ad 87 a 344 euro, così come previsto dall'articolo 192 del Codice della Strada.